Non c'è il segnale? Solo questi ritratti. Mi servono. E cosa? A ricordare il volto dell'uomo che ha ucciso mio padre. L'ho visto solo per un attimo. E sono dieci anni che cerco di ricordarmi la sua faccia. Mancano soltanto quattro mesi la prescrizione. Cosa succederà a quel punto? Lo sai benissimo che cosa succederà. Che nessuno pagherà per la morte di mio padre. Lascia stare quella storia, Irene. Hai tutta la vita davanti. Chi è quella ragazza che è appena uscita? Non l'ho mai vista. Ti piace spiare la gente? Perché giri con la scorta? Vogliono ucciderti? Voglio soltanto aiutarla. È la figlia di quell'uomo! Tu ti sei innamorato di lei? Se ti metti a pensare alle scelte sbellate della tua vita, rieschi di impazzire. Io scoprirò che ha ucciso mio padre. Le persone dimenticano le cose brutte. Io invece me le ricordo. Tutte.